Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Vanessa Incontrada sta vivendo un periodo molto difficile a causa della perdita di una persona a lei molto cara. La triste notizia è stata condivisa dalla showgirl sui suoi profili social, dove ha postato una foto con l'amico scomparso, nel messaggio allegato. Vanessa ha espresso il profondo affetto che li legava con le parole, sei e sarai sempre nel mio cuore, amico mio grande. Riposa in pace. Ti voglio un bene infinito. Gipo Bramerini, l'amico di cui parla, è deceduto all'età di 48 anni a causa di un improvviso malore. Oltre alla moglie e alla madre, il dolore per la sua scomparsa colpisce anche i due fratelli, i familiari, gli amici di sempre e anche Simone Cristicchi. Bramerini lavorava come autista durante il giorno, mentre la sera gestiva, insieme a Ragnoli e ad altre persone, un famoso pub situato al termine del corso.